da sei ricordato ma che l'ho avviato no basta basta il player della partita sai chi sarà chi va a passare tempi pomposi è meglio cioè ci pompiamo un po almeno di che ne ho fatto un po con la voce si aspetta renato sergio ora io vado arriva da queste case queste casette piccolo lorenzo in un player dalle alle casette piccole l'ho uccidò fracasso questo praticamente usate una cassa che mira di schifo io mi serve aiuto a me piccolo dubbi non mi riuscite a me perchè si butti l'erco però era tirata fianco a te però ti sei preso l'arma e sto prendendo io fai che cazzo io non ti manco viso vengo no raga vengo mi mancano solo i materiali raga poi vabbè cioè no c'è un tutto di schifo però non ci morire per favore ora che il ladro killalo 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 himago kong è stato meglio, è stato meglio amico ho usato una frattura è stato meglio di me, è brutto pure io lo sto seguendo vedi dove a terra si, da me, da me, da me, da me, seguimi no che nobbo mi è dato una pere sta lì tra l'albero oh vai guarda, comunque mi ha rubato una killa bastardo proprio prima che sta succedendo? panic building, le cose dov'è, è morto? non ho capito allora, pensa a Beppe quanto sta azzeccando ma è morto? lo sei vivo ancora qui penso che sia ancora vivo non lo so, penso che sia ancora vivo c'è un'altra no, un altro, dico e un altro mi ha sparato dove so? e che ne so io? ah, lo so, c'è un 22 ho visto gli studini, Sergio mi dai 22, cioè c'ho piccoli, pochi colpi piccoli mi dai un po' c'è un 22 in tutto si anche se c'è un'altra non lo so, ragazzi, ripeto, non lo trovo ah, eccola te la posso rubare? ah, prima ah, eccola c'ho ancora che è bene sto dietro la pietra non c'è mosso no, è levato 21 è levato 21 si, ma io no oh, è il budget 3 è schifo ma è che c'è una mia schifosissima, tipo, era no questo non mi fa cadere giù ecco qua, infatti ah, dai da quante parti quanti team erano, boh come che bella partita, eh, Gigi eh, Gigi perché stai qua ti prego questa perché c'hai gommoso, perché è gommoso troppi, troppi, troppi a me mi sparavano anche di lato si, io ieri me lo senti mi ero organizzato pure io con lui oh, raga ciao ciao ciao